a amici sportivi la più cordiale buonasera ben ritrovati all'appuntamento con il dopo partita qui dallo stadio Porta Elisa è un'altra domenica felice per la lucchese che batte soffrendo di misura la Virtus Castelfranco con un gol su calcio di rigore nel primo tempo trasformato da Nazareno Tarantino nel finale i rossoneri soffrono tantissimo rischiano in pieno recupero di subire il gol del pareggio e poi alla fine giunge anche la notizia che il la capolista Correggese si è fatta di nuovo bloccare in casa stavolta dal palazzolo e dunque i punti di ritardo dalla capolista tornano ad essere solo due ma andiamo subito a vedere le fasi salienti di questo lucchese Virtus Castelfranco 1 a 0 la lucchese ha bisogno di un bel raggio di sole dopo le nuvole di Fidenza è una Correggese che come la luna si allontana Pagliuca ancora fuori lui non va in campo ma spesso è stato il dodicesimo Pagliuca sceglie e sa bene che ogni decisione può essere pesante rientrano Aliboni e Caboni per il resto la scelta cade su Zinetti e Terrino esterni e sul rilancio di Gelardoni in mediana Raicevic stavolta va in panchina la Virtus Castelfranco ammazza grandi pare di messa tra senza e un torneo che ho ben poco da chiedere mai fidarsi però delle belve ferite lucchese avvisata mezza salvata volano i palloncini per la giornata dell'autismo Capitan Aliboni e il vice Angeli consegnano un mazzo di fiori a Daniele di piazza papà di Sara che oggi avrebbe compiuto gli anni la lucchese parte bene assume l'iniziativa al quinto il primo tentativo di Caboni ampiamente svirgolato replica degli ospiti con un tiro di Negri che perlomeno possiamo definire insidioso ancora Tarantino che pare ispirato Gibertini respinge ma Nolè non è pronta a raccogliere doppio sussulto della lucchese Caboni si presenta tutto solo ma Gibertini lo ferma e non riesce a scavalcarlo l'attaccante sardo sprecando il punto del vantaggio l'azione prosegue Tarantino sollecita ancora il portiere Emiliano al quarto d'ora spunto delizioso del solito Tarantino prosegue Caboni che viene atterrato da Baldaccini rigore e giallo per il centrale Emiliano dal dischetto Tarantino spiazza Gibertini per il tredicesimo sigillo stagionale record personale pronta reazione della Virtus combinazione migliaccio da Rio ma Casapieri si distende sulla propria destra e mette in angolo ottimo l'intervento del portiere della lucchese pesante al trentunesimo il giallo per Caboni che rende fida salterà la trasserta di Palazzoro sull'olio lucchese imprecisa nelle ripartenze nell'ultimo passaggio il primo tempo si chiude con una punizione debole di Cortese facile facile per Casapieri la ripresa si apre con una buona occasione sprecata da Tarantino su controllo sbilenco del portiere Gibertini cambio al tredicesimo entra Raicevic proprio per Tarantino parso un po' stanco il Castelfranco però non demorde azione pericolosa sulla destra con girata di migliaccio respinta ancora gli emiliani consacenti che di punta non trova la porta la lucchese potrebbe chiudere il conto alla mezz'ora Chianese recupera un bel pallone e lo serve a Raicevic che calcia addosso a Gibertini peccato al 33 ancora Gibertini quei piedi su Raicevic assistito da un mostruoso Nolè nel finale c'è spazio anche per Angeli al posto di Caboni la lucchese si chiude ma in pieno recupero per due volte rischia di subire il pareggio Sassarini dai 35 metri e Casapieri in volo a deviare in calcio d'angolo poi Zinetti salva sulla riga sul colpo di testa degli attaccanti emiliani tifosi col cuore in gola finisce però con la vittoria della lucchese e qualche secondo più tardi la notizia più bella la correggese ha pareggiato i punti dalla vetta tornano ad essere solo due e vediamolo ai risultati di un'altra giornata sicuramente molto importante nell'economia e nella storia di questo campionato di serie di 2013-2014 Ed ora uno sguardo alla classifica una classifica che parla di nuovo in termini lusinghieri e che dà grande conforto alle speranze della squadra di Pagliuca con la correggese che sale a 68 e rossoneri che piombano a 66 dunque due punti e tutte le altre posizioni nella classifica generale del girone di di serie D Allora il decano così t'hanno ribattezzato in settimana Emiliano Pellegrini non sei d'accordo sul decano allora? Quello che conta è lo spirito eh? Ah non conta Senti eh oggi è stata tu ne hai viste tante ne hai raccontate centinaia di partite oggi è stata una di quelle partite che nel finale insomma cuori forti eh? Dunque la lucchese più tempo ha sprecato almeno tre palle gol oltre oltre il gol di Tarantino come succede quando le partite tieni in birico poi nel finale può succedere anche l'imprevedibile ed è successo in un giro di un paio di minuti no prima direi un salvataggio straordinario di Casapieri che potrebbe valere anche il campionato poi lo vedremo alla fine poi un salvataggio sempre sulla linea mi pare di Zinetti fatto sta che la Virtus che nel primo tempo non aveva fatto assolutamente niente eh qual è passata a tre che si ha mandato tutte le attacche ormai non aveva più nulla da perdere la lucchese da sofferto però sono queste le vittorie più importanti perché ti dicono che eh ci sono anche dei segnali no? La correggesse che sembrava dovesse asfaltare il palazzolo e domenica la lucchese va nel Bresciano invece ha pareggiato ora si torna a due punti quindi come vedete c'è questa alternanza che rende sicuramente intrigante questo finale di campionato come andrà a finire non lo so però oggi possiamo dire che eh se prima sembrava dire complicata la strada ora lo è un po' meno eh diciamo la verità insomma poi sai succede che magari domenica va a palazzolo quindi cioè non si può dire niente ecco anche se si può dire invece che nel finale sia la lucchese che la correggese giocheranno contro Mezzolara, Fortis e Massese e lì chiaramente si vede chi è che perde meno punti. Allora se questo se il copione di questo campionato Fabrizio Vincenti l'avesse scritto Agatha Christie, uno scrittore di gialli forse non potrebbe fare di meglio. Qui veramente tutte le domeniche ne succede una. Sì è un elastico ormai è veramente un elastico con una domenica lucchese che recupera i punti la domenica dopo che li recupera la correggese e quindi prende una maggiore distanza. L'importante è restare così l'importante è restare così la lucchese oggi ha fatto tre punti fondamentali non hanno regolato nulla gli avversari hanno lottato fino in fondo hanno rischiato più volte di pareggiare a onore del vero era importantissimo il risultato che arriva da correggio è la riprova che non tutte le partite sono scontate e quindi bisogna crederci fino in fondo fino in fondo. Un'altra cosa rapidamente cosa ti è piaciuto della giornata odierna o di squadro a livello individuale? Ma io più che altro direi la capacità di soffrire oggi la lucchese non ha fatto una bella partita è stata però in grado di tener duro di tener botta nel momento in cui c'è stato il ritorno della Virtus Caselfranco e quindi secondo me questo è l'aspetto più importante ormai sono tutte finali abbiamo detto tante volte le finali non sono mai belle partite quindi ci sarà da attenderci di gare tipo questa l'importante è riuscire a fare tre punti. Il saggio Bruno Russa aveva detto non abbattiamoci domenica scorsa non esaltiamoci oggi la correggese potrebbe perdere i punti. Detto fatto. Sì sì sinceramente l'esperienza accumulata in quello che si fa che mi ha fatto dire questo e credo che ancora il campionato sia totalmente aperto sia per noi che per loro la lucchese sta facendo un grandissimo campionato la correggese sta facendo altrettanto un campionato importantissimo e poi alla fine speriamo di essere noi a gioire però bisogna fare i complimenti a queste due squadre perché si stanno battendo veramente come in nessun altro girone c'è questa questa queste queste due squadre che stanno facendo benissimo e ancora non c'è una una squadra che prevale sull'altra. Oggi avete avuto il torto di non chiudere a di sbagliare qualcosa nelle ripartenze forse poi nel finale avete un po' sofferto. Sì sofferto moltissimo perché chiaramente quando le partite non si chiudono accade questo devo dire anche che secondo me il Castelfranco è una delle migliori squadre del campionato e averne aver prevalso su di loro è veramente la dimostrazione che la lucchese è una squadra importante ora speriamo che il Castelfranco ci restituisca il il favore con la correggese visto che loro li devono incontrare quindi speriamo di gioire insieme a loro. Quanto è aumentata questa sera la tua fiducia? Ma io la mia fiducia rimane sempre e rimane sempre intatta credo che lucchese e correggese abbiano il 50 per cento delle possibilità di andare di vincere il campionato e io rimango fiducioso come lo ero domenica scorsa perché però devo dire che ancora il campionato riserverà delle sorprese speriamo che le sospese siano a sfavore della correggese Mister Marcello Chezzi allora nel finale avete rischiato di confermare quella che era la vostra buona tradizione con la lucchese ci avete provato fino alla fine con una buona prova da parte vostra. Sì c'è un attimino di rammarico perché al novantesimo quando l'avversario ti toglie una palla sulla linea che poteva essere pari in un campo prestigioso c'è rammarico però il calcio a volte anche questo quindi accettiamo andiamo avanti pensiamo a fare tre punti domenica. Come ha visto questa lucchese come vede la lotta ora che sono tornati solo due punti tra le prime due sembra davvero una lotta destinata a protrarsi fino alla fine forse fino all'ultima giornata. Sì la lucchese l'ho vista bene insomma si sa come dicevi tu prima giustamente secondo me si arriverà all'ultima partita che vinca il migliore sarà una finalissima e ci si giocherà tutto a correggio. Personalmente ce lo dice per chi fa il tifo. Simpatizzo lucchese simpatizzo però. Casapieri una parata che chissà può valere un campionato. Speriamo che va che valza almeno che sia valza al meno la partita poi per il campionato vedremo a fine anno se è valso anche il campionato. Una una bella prova secondo me abbiamo 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 sofferto abbiamo saputo soffrire forse non abbiamo chiuso la partita subito ma i tre punti alla fine abbiamo presi. Importante vincere e adesso la correggese di nuovo a due punti. Anche quello è un bel risultato noi dobbiamo pensare a noi stessi però la curiosità a fine partita c'è sempre di chiedere quanto ha fatto la correggese e hanno pareggiato e quindi siamo tornati a due punti siamo molto contenti. Dove non eri arrivato tu ci ha pensato Zinetti. Zinetti ha fatto un grande salvataggio sulla linea veramente di controbalzo e ha un gran merito anche lui veramente. Adesso si va a Palazzolo che ha pareggiato a Correggio tutte le partite adesso saranno difficili e forse quel finale di sofferenza deriva anche dal fatto che le partite adesso sono così importanti. Sì d'ora in avanti saranno tutte difficili saranno tutte poche squadre ci lasceranno vincere facile poche squadre non ci faranno soffrire gli ultimi minuti e quindi noi partiamo questo rush finale a due punti. Io dico che nella tua pagella che avrà voti alti incide anche la parata del primo tempo forse meno spettacolare ma altrettanto complicata. Sì è stata una parata difficile perché mi ha preso un controtempo e sono riuscito a allungare la mano e passata sotto le gambe di Calistri l'ha toccato e bene così dai. Rapidamente con altri due protagonisti Luigi Zinetti complimenti il primo vol con la maglia della Lucchese. No vabbè ero lì sul palo mi sono trovato la palla e l'ho rinviata non l'ho fatto anche inconsciamente. Per fortuna abbiamo vinto siamo un grande gruppo ci alleniamo ogni giorno con la massima concentrazione cattiveria e ce lo meritiamo. Da ora in poi noi pensiamo solo a noi non ci importa delle altre squadre, degli altri risultati è un campionato nostro e chi vincerà sarà il più forte. Abbiamo visto anche un po' più a tuo agio rispetto forse ad altre partite. Sì dopo l'infortunio ho avuto un po' di un po' di difficoltà a rientrare ma mi sento anche anche grazie al mister grazie allo staff alla preparazione atletica non ora sto bene mi sento mi sento in forma. Dai un voto a questo signore che è accanto a te. Io dare dieci a tutta la squadra come a lui perché sono ragazzi fantastici e che si impegnano sia dal più grande al più piccolo si impegnano al massimo. Il signore accanto a te Matteo Nore che io definito ha giocato una partita mostruosa. Te mi dirai importante la squadra che abbia vinto però. Un elogio oggi specialmente un elogio a tutta la squadra tutto il gruppo che è capace di soffrire e di portare in fondo questo risultato. L'unica pecca forse di non aver chiuso prima la partita. Al primo tempo secondo me abbiamo fatto bene forse un po' il vento ci ha condizionato poi secondo ci siamo un po' abbassati però nelle ripartenze dove abbiamo si doveva chiudere la partita e la nostra pecca è stata quella però un grosso elogio a tutto il gruppo tutta la squadra che è stata capace di soffrire a portare in fondo questo risultato importantissimo. Aspettavi al 95esimo che arrivasse la notizia del pareggio della Correggese. Bisogna sempre sperarci no? Bisogna sempre sperarci però dico lo ripeto già da un po' di tempo dico di guardare in casa nostra partita per partita ora erano sette ora ne mancherà sei partita per partita fare più punti possibile ogni partita dare il massimo più del cento per cento per raggiungere il massimo il bottino pieno dei tre punti e poi alla fine si fa conti ora non li guardiamo loro. Allora Nazareno un'altra vittoria soffertissima ma quanto mai preziosa perché la Correggese ha pareggiato e gli avete ripreso due punti che avevate perso la settimana prima è un tiro in molla sul filo dei nervi. Beh questo è il bello di questo campionato domenica dopo il pareggio di Fidenza tantissimi ci davano per per morti tra virgolette noi eravamo consapevoli che il campionato è ancora lungo e anche se oggi fossimo state ancora a quattro punti per noi non era cambiato nulla ce la giochiamo fino alla fine. Abbiamo vinto una partita importantissima soffrendo però questo è bello del calcio dall'altra parte è arrivato un risultato che magari noi non ci aspettavamo e abbiamo recuperato i punti che domenica abbiamo lasciato a Fidenza e la dimostrazione che questo gruppo è veramente un grandissimo gruppo che fino all'ultima giornata fino all'ultimo minuto non mollerà nulla e ci crediamo veramente fino in fondo e ce la giochiamo fino al 95esimo della partita di Correggio. Siete partiti molto bene poi nel finale siete andati in sofferenza questione fisica questione di testa questione che a quel punto ti viene un po' il braccino corto? Questione fisica no perché siamo bene e se non chiudi la partita sono partite che poi dopo ti subentra un pochino di paura ti abbassi con la difesa ti abbassi con i centrocampisti davanti magari non tiene la palla come dovevamo tenerla abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare il 2-0 magari sul 2-0 la partita era chiusa e poi è ovvio che basta un attimo per riaprire tutto e negli ultimi due minuti grazie a Leo che ha fatto un grandissimo miracolo e il salvataggio di Zinetti sulla linea è andata bene perché se no veramente si poteva compromettere il cammino da qui a fine campionata. Chiudiamo con la nota personale, gol tredicesimo, mai tanti gol intorno alla tua carriera? No, ero arrivato fino a 12 come ho detto ai tuoi colleghi ringrazio Fabio Alibone che mi ha lasciato la possibilità di battere il calcio di rigore e volevo ringraziarlo e è andata bene, sono contento, abbiamo vinto, io ho fatto gol, ci sono tutte le componenti tre punti per la Lucchese, abbiamo recuperato due punti sulla Correggese, ho battuto il mio rapporto personale quindi meglio di così non poteva andare questa domenica. Ora ci godiamo questa domenica e da martedì pensiamo alla partita col Palazzolo che sarà una partita difficilissima. Alle mie spalle prosegue la conferenza stampa dei ragazzi della Lucchese, dei protagonisti di questo successo di misura che però ha consentito ai Rosso Neri di ridurre a solo i due punti il distacco dalla capolista Correggese e domenica si riparte con la Lucchese a Palazzolo sull'Oglio e con la capolista di scena ad Abano Terme, un altro capitolo di questo affascinante finale di campionato. Ripetendo che la Lucchese ha battuto la Virtus Castelfranco per 1 a 0 per questa puntata di dopo partite è tutto dalla sala stampa del Porta Elisa. Vi saluto e vi appuntamento a domenica prossima sempre alle 21.